Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha preso parte a Bruxelles alla conferenza sull'alleanza per la coesione, promossa dal Comitato delle Regioni e dal Comitato delle Regioni Periferiche Marittime, di cui è vicepresidente. Al centro della discussione l'agenda strategica 2020-2027, lanciata dal Consiglio Europeo due settimane fa. Un momento di confronto che Rossi ha scelto per presentare l'agenda strategica toscana dei prossimi cinque anni. Fra i punti principali la Costituzione di Agenzie per la Libertà e la Protezione delle Persone, non solo sul fronte dei dati personali e della sicurezza, ma anche dalle fake news. Poi il tema dello Stato di diritto e dei migranti, fondamentali per contrastare il calo demografico e da gestire come un'opportunità. Un'opportunità di protezione quando ad esempio queste persone lavorano nei settori dell'assistenza, un'opportunità di crescita quando domandano servizi che altrimenti sarebbero chiusi, un'opportunità anche di mantenimento dello Stato sociale, ma per far questo occorre che ci siano politiche e impegni che l'Europa si assume in prima persona. Fra gli altri temi strategici anche i servizi sanitari e la salvaguardia dell'ambiente, sempre più fragile e sotto attacco anche a causa dei cambiamenti climatici, l'utilizzo ottimale dei fondi europei per lo sviluppo dei territori, l'economia circolare, che richiama nuovi investimenti. Ma allo stesso tempo produce un nuovo tipo di economia, quindi è un contributo non solo al mantenimento degli equilibri ambientali fondamentali per il futuro. La Toscana nel 2050 vuole essere una regione carbon free, ma è fondamentale anche per creare occupazione. Se noi faremo politiche serie su questo tema, noi avremo investimenti che si muovono nella direzione giusta.